Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ritorniamo su Pokemon Flora Sky o su Nopelle iWG Ci ricordiamo dopo la vittoria della prima medaglia Ora dovevamo andare giù In basso E... Eravamo già... Da questa parte E avevamo catturato Patrat Per Rock Smash Ma solo per quello, poi lo abbandoneremo Abbiamo trovato le etere nella pietra Va bene ragazzi Ora si combatte Contro questo Va bene andiamo con il primo Pokemon Chi sta? Ti dobbiamo allenare Starlit Dovevo mettere per primo Ok va bene così Va bene E cominciamo Lui è uno studente Ok quindi cominciamo contro Lui che ha un Patrat di livello 8 Non è forte Quindi un attacco d'ala Non lo distruggiamo per niente In un colpo Eh però Ci siamo andati vicini Però lui ci usa Bite Che ci toglie un bel po' E noi li usiamo attacco rapido E vinciamo contro questo allenatore scarsissimo 97 Ah c'è una Ashings Non vorrei rischiare Quindi mettiamo Chimchar Però Vabbè dai Livello 8 Vabbè Mi cala anche L'attacco Vabbè Ne usiamo un bracere Ecco Lui ci usa azione E noi da un bracere E abbiamo vinto Livello 14 Chimchar Di un millimetro Non siamo arrivati a livello 514 Vabbè Abbiamo battuto Con sto allenatore Scaloso Va bene Ne usiamo spaccaroccia Sì Vabbè Patratto Ci usa soltanto Per usare spaccaroccia Ora Andiamo Chi è Chi è questo Abbiamo avuto Lord Old Road Amo vecchio Che fa cagare E io vorrei provare Un po' a pescare Perché Non si sa mai Possiamo trovare Qualche pokemon Curioso E forte Nell'acqua Anche perché Ci servono Ora io vorrei Assegnarlo Registra Con select Dunque Usiamo il tasto Select Prendiamo Abbiamo preso Abbiamo preso Un poco Vediamo Chi è Un Corfish Ragazzi Un Corfish Non ci credo Al primo colpo Uno Scorfish C'ho paura Ragazzi Ad attaccarlo C'ho paura E se lo C'è Se lo Di sotto Cosa Cacchi Usiamo Patrat Mettiamo Patrat Mamma mia È un Pokemon Che comunque Ci serve Perché le Acqua Ci servono Vabbè Questo Poi La ridazione Vabbè Mettiamo azione Speriamo Di non fare Una merdata Vabbè Io rischio Usiamo Una pokemon Subito Però ragazzi È un Pokemon Che può Essere Utile Andiamo Pokeball Usa Vediamo Se riusciamo A catturare Sicuramente Sarà difficile Da catturare Uno È difficile Catturare È difficile Non ammetterlo È difficile Io ci Sabo Il fatto Che se ci distrugge Se ci batte Patrat Abbiamo anche Poke Quando bolla Mamma mia Non usare Non usare azione Assolutamente Non fare Brutto colpo Attenzione Non possiamo Più Attaccare In Nessun Nessun Motivo E dobbiamo Per forza Proattentare Catturato Corefish È stato Catturato A un altro Pokemon Nella squadra Sono tre Perché Patrat Non lo conto Ma Teniamolo E Corefish Può imparare Spaccare Ad acceso Nella squadra Indeciso Andiamo A ricaricarcelo A curarcelo A curarcelo Intanto un altro Pokemon Un Patrat Che nervi Sto Patrat Amunque Questo Corefish È Ottimo E io Però Vorrei Fare Una cosa Se è Raro O Se è Pure Si può Trovare Facilmente Quindi Proviamo Un'altra Volta Ecco È facilissimo Prendo Un Magikarp Quindi Una Cacca Quindi Siamo Stati Fortunati Dovrei Dire Perché Potevamo Trovare Magikarp E credo Che In un Gioco La probabilità Di trovare Un Magikarp Va bene Va bene Noi Ritorniamo Andiamo A curarci Corefish E poi Ce l'alleniamo Ovviamente Non ce l'alleniamo Durante la puntata Lo useremo Poco Lo troverete A un livello Più alto Credo 15 E ora Andiamo A cura Ok Sono 4 Poca Patrat Ce lo teniamo Perché Magari In squadra Può servire Anche per usare Taglio Per usare Le nostre La Soprattutto Ora Spaccaroccia Appena vedo Che Non serve Più Oppure Magari La possiamo Anche dare A Corefish Sono indeciso Bisogna Vedere Anche Le cose Che impara E Mi devo Informare Quindi Devo Decidere Però Noi ce Otteniamo Lo stesso Perché Tanno Ormai La squadra E ci siamo formata Da 3 Patrat Una scorta E' solo Una merda Serve soltanto a questo L'unica cosa buona Pelli buggeri Tommolette A sto punto Ci mettono A spaccare Le rocce Ma spero No sono tentato Dai dai Troveremo un'altra cosa No veramente Se è così Niente Niente Ah perla C'è ragazzi E' buono Dai Ok Vai No Che merda Ho fatto Va bene Contro il Pigliamosche Il Pigliamosche E ha Un'incata Noi ovviamente Ve l'ho detto Non useremo Scorefish E usiamo Attacco d'ala E' un tipo Collottero Se non mi sbaglio Si L'abbiamo quasi Fatto fuori Speriamo Che non ci casa Un danno Ma ci casa Un PS Ragazzi Ci toglie un PS Sono sicuro Ecco E noi Ora lo riattacchiamo Vabbè lui l'ho guadagnato Con attacco rapido Credo che gli facciamo molto Ok distrutto Abbiamo Fatto fuori L'incata A livello Tetici Starly Lo impara Doppio team Che non Faccio Imparare Anzi Se Faccio imparare Togliamo Ruggito Doppio team Potrebbe servire Teniamola Perché Usandola Molte volte Di contenuo Veramente Nervosire Gli avversari Quindi comunque Teniamola Va bene Andiamo avanti Vorrei vedere Una cosa Di qua Non si va Da nessuna parte Giusto Ah non si va Si va E c'è una Pokéball Io non sono Sicuro Prendiamoci Repellente Perfetto Proprio Perfetto Repellente Poi di qua Vorrei vedere Sono tentato Ma Stanno con gli rompi Palle Di Attivamente Fai la sesta strada Solo che ti salti Quello Aspetta Mamma mia Che maledetto No Questo è un maledetto Questo è un maledetto Questo È un maledetto Quindi lo dobbiamo Battere Vabbè Ti pilota Quindi Per primo Ci sta tutto Starling Ha un monkey Che io Non so Dipende Di tipi Tipi di lotta Che troveremo In questo gioco Soprattutto all'inizio Se il monkey Sono un po' Deciso Bisogna anche vedere Se troviamo anche Timber Può essere anche Una buona idea Timber Se lo troviamo E poi Serverebbe Anche un bel tipo Un bel tipo Elettro Shinx Andrebbe bene Ma non l'abbiamo Trovato fino ad ora Intanto Scraghi Vabbè Distrutti Veloci Questi due Sono scarsi Anche se Troveremo Scraghi Sono un bel deciso Perché è anche Tipo Buio Però potrebbe Servire Ok No Se andiamo qui Questo Stavamo sfidati Cioè praticamente Abbiamo fatto Soltanto il giro Non è servito A niente Dato altre bacche Ci ricordiamo Delle pacche Preserano Le prime puntate Abbiamo fatto Una bella Scorparciata Intanto C'è un'altra Fertile Va bene Noi Ti prendevano Questa Le bacche Che comunque Stavano a molto Bisogna anche Dirlo Perché Sono tipo Antiparalisi Antia Velename Cioè Antitoti Che è questa Ciao Si chiama Flash Per le bugie Amenglade Vabbè Io Diag Diag Questo log diag E' Giratina Sono apparsi E hanno lottato E' stato veramente Spaventoso Come voi capite Io non sono bravi In inglese Dove Che bello No ragazzi Che pazzo Che ho fa Oh Guarda Mamma mia Che bella immagine E lì c'è una Pokéball Lassopra Vedete Sopra Diag Sopra Antialga C'è una Pokéball Mamma mia Che pazzo Cosa sta succedendo Che merda Tutto blu Ragazzi Dove cavolo Sono andato Non mi dite Che Cos'è successo Dove sto Che merda Mi trovo Dove cavolo sto Chi è Che è successo E merda Mi è arrivato No ragazzi Ci siamo bloccati Se da capo così È possibile Ah no Dove Merda Stiamo Dove cavolo Sto andando Sto andando Io sto andando a caso Chi è Shiny È lui Non mi ricordo Shiny Merda Da capo Che è successo Non sto capendo niente Ah Vabbè Ci sono ritrovati Non so dove Sinceramente Chi è da capo Flash Il Flash è una donna A Pelle VG Sei ritornato Durante la battaglia Di tra Tra Di Alga E Ghiratina E' apparso un portale Siamo stati risucchiati Dal portale Dopo Vabbè Un esplosio C'è stata un'esplosione E Ghiratina Tornati indietro Nel suo mondo Tornal World E Di Alga E' Scomparso Nel nulla Vabbè Ti ricordi Eh You met A misteriose Pokemon Hai visto Un misterioso Pokemon Shaming E' sopravvissuto Vabbè Non sto capendo niente Meno male Che era italiano Meno male Che era italiano E non lo so Eh Se questo è italiano Allora Proprio Sma la merda E questo è italiano Francese E' Giorgio Nese Va bene ragazzi Noi ci troviamo In questa città E non so Cosa cazzo fare Sì Questa dovrebbe essere Mystic Town Giù non si può andare Perché già si è visto Noi Ritorniamo Di queste parti Ah Ora possiamo vedere La mappa Innanzitutto E andiamo a mappa E stiamo a Mystic Town Noi stavamo qui Se non mi sbaglio Quel city Stavamo andando Proprio sotto E si E quindi la strada È sbagliata Abbiamo sbagliato tutto Quindi Dove bisogna andare Bisogna vedere E Lo vedremo Nella prossima puntata Fatemelo un po' capire Io vado di qua Se si può andare di qui Ma di qua non si può andare Di qua non si può andare Questo l'abbiamo sfidato Ah beh E' vicinissimo Questo è da dire Di qua A destra Non si Non Si combina niente Quindi credo Che dobbiamo andare Nella città della capopalestra Girare a destra Ho fatto la rima E sono più scimo di prima Però Dovrebbe essere così Intanto ancora perla Cioè probabilmente Cioè veramente No Questa cosa non la capisco Aspetta no 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 Forse Una cosa Andiamo di qua si può andare Che è quello Quello non ci sfida Ci sfida Che merda ha fatto Che merda No No Perché lo sono andato a sfidare Come al demente Speriamo che ha pochi pokemon Un pokemon Speriamo che lo sia forte Zigzagon Fortunati ragazzi Siamo stati fortunati Dombo dirlo Perché è un pokemon Di merda Va bene Attacco d'ala Uuuuh Bravo Starly E sale anche di livello Bravissimo Livello 14 Starly Va bene No no va bene La solita bug 14 alla meglio Su Va Si sta evolvendo Starly Si sta evolvendo Starly E tutto è partito Da un equivoco Io non volevo sfidare Quello E Si è voluto Starly Si è voluto Starly La prima evoluzione È Starly Che si evolve in Staravia Vabbè L'ha fatto perfesso Staravia Si è voluto E vai La prima evoluzione è lui Anche se non sono molto felice Vabbè che Non cambia un cazzo Non cambia quasi niente Ah ecco Di qua No Dove merda Dove dobbiamo andare Dove merda Dove dobbiamo andare Di qua No Anche se ci da dell'erba Di qua No Dove dobbiamo andare Eh ragazzi No Surf non ce l'abbiamo E dove merda Dove si va 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 Niente Non so dove andare Va bene ragazzi Fa niente Faremo nella prossima puntata Che do che la puntata possa finire qui Mi ha detto mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Alla prossima